E ragazzi, come va? Io sono Feri e Niki E io sono Steffi, che è oggi come Suicide Guy E siamo tornati qua in questo gioco, prontissimi ad affrontare anche tutti gli altri sogni che ci aspettano Esattamente, chissà cosa tutto ci succederà quest'oggi Ormai sono pronto a qualsiasi cosa Abbiamo visto balene, dinosauri, mostri strani, Frankenstein Abbiamo visto davvero di tutto, quindi ormai sono pronto al peggio Ma sono sicuro che verremo lo stesso stupiti da questo fantastico gioco Pensa come una mucca Cosa faresti se fossi una mucca, Feri? E basta Poi mangerei un po', farei un po' di pupù e è finita la mia vita Beh, l'erba, cioè l'ebrette di mangiare l'erba da terra La puoi trovare più o meno fresca Scusami, eh, anche quello è bello Allora, siamo chiaramente in una fattoria E c'è, allora, io vorrei subito dirlo C'è un frigorifero appeso nel tetto Che direi che è un po' sospetto, ma proprio leggermente Comunque ti devo dire una cosa, Steph Dimmi Non è un po' piccola sta mucca, in proporzione Dici? No, mi sembra abbastanza normale, Feri No, 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 è minusca Aspetta, la posso muovere Ok, bene così Oh no, cosa ci servirà? Non voglio saperlo, Feri Non voglio sapere neanch'io Scusi, mucca, si può spostare? Vabbè, portiamo anche a lei Allora, io ho subito pensato Che, secondo me, questa qua Vedi? Hai già capito? Sì, è una sorta di... Capito? Ok, ok Con le tecniche a livelli incredibili Però aspetta, la mucca si muove Quindi ha qualcosa che può servire Perché sta camminando Ok, non ne ho idea Allora, io ho già visto una cosettina, Steph Sì, dimmi Hai visto la statuetta, Feri? No, non ho visto ancora Allora, non mi interessa Allora, guarda la tua destra Sì? C'è questo posto qua Io direi di salire subito Di mettere vicino No, devi mettere vicino questo Salire Perché poi lì sopra c'è una scala Quindi iniziamo a capire Quello che va fatto in questo livello Lascia stare la mucca, però, Steph Guarda che scala perfetta che ho trovato, Feri Non commento Grazie, mucca No, non commento Sei molto gentile Non voglio commentare Vai, vai dritto È comoda E cerchiamo di dimenticare il prima possibile questa scena Allora Dimentichiamocela Se noi andiamo qua E andiamo qua Premo? Vai Dai, vediamo Ok Aspetta No, no, non me lo dire Dimmi, Feri Noi dobbiamo lanciare la mucca da qualche parte Perché ho sempre Aspetta Ho sempre l'impressione che la mucca fa la pronta fine La mucca la dobbiamo lanciare E ci deve colpire addosso e ammazzarci? No Può essere? Non credo, dai, no Secondo me invece potrebbe essere così Però Per adesso Fammi provare a fare questo salto Dovrei riuscire a farlo E siccome Ci sono Diverse scatole Direi di iniziare buttando giù le scatole Ok Per capire poi A che cosa ci servono Uh, una lente Lente di ingrandimento E che ci può servire una lente? Non lo so Ma anche questa scala che va nel nulla Premi Ok La scala l'abbiamo fatta scendere per risalire qua in modo comodo Ok, in modo tale da poter Dici che è solo per quello? Totalmente ritornare in modo comodo qui Quindi Quello è andato Dopodiché la scatola ci serviva per prendere la statuetta Che tu probabilmente ancora non hai visto No, non l'ho vista Ma io l'ho già vista da un po' di tempo Quindi Vado subitissimo a prenderla Opla Opla Ed eccola qui Eccola qua Perfetto così Questa non so che ci serve Non ne ho idea Guarda la mucca con la lente Magari ci svela qualche segreto Mucca Allora Fede ascolta a me un attimino Una cosa classica Che c'è con una lente e con un raggio di sole E sfruttare diciamo il riflesso che si fa col vetro per far bruciare qualcosa Quindi magari dobbiamo far bruciare il grano che sta qua dentro Il fieno forse Ok Subito invece c'erano di mezzo No io c'erano quelle cose grigie C'erano quelle cose grigie Pensavi che dovesse esplodere qualcosa lì Esatto Mi aspettavo qualcosa di più esplosivo Però i fuochi del tifo Il peggior nemico di Ferinichi La sveglia Andiamo Su 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 Forza forza Vediamo dove siamo Ok Io ho visto una sveglia Mi aspettavo una camera da letto Diciamo Invece abbiamo a che fare con un drago Un drago Ok Quindi la sveglia è intesa perché dobbiamo svegliare un drago Ma soprattutto Allora io lo so che tu ti vorresti guardare intorno Vedere cosa c'è Cosa non c'è Eccetera eccetera Che bellino Mamma mia È troppo carino Sembra un po' antipatico No io adoro i draghi È troppo carino No si anche a me piacciono i draghi Però sembra abbastanza cattivo quello Allora Questo lo buttiamo di sotto Perché tanto probabilmente sarà utile Ah no Ok so già cosa ci serve Guarda 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 Hai già visto una statuetta Sì Fer Sa già dove sono Come facevi a saperlo Perché tanto pensi solo a quello Prima di completare Tu non l'avevi vista No Allora guarda Devi salire qua Salire qua Salire qua Saltare qua Arrampicarti qua Sve No Mi dispiace Fer Non c'era No non c'era Da lontano sembrava la statuetta Invece è una sveglia Ok prendiamoci una sveglia Dal tiro Non me ne faccio nulla di una sveglia Poverino li hai tirato in testa Questa direi che ci può essere utile Per svegliare un drago Che dici? Eh assolutamente sì Allora da quello che sembra Visto che abbiamo trovato la sveglia Questa trombetta da stadio Sembra che dobbiamo fare Il più rumore possibile Per svegliarlo Non passare da lì Che ti incastri E rifai il giro Lo so Lo so ma la statuetta Non l'abbiamo ancora trovata Io pensavo che fosse qui dentro Sono entrato qua solo per quello Cosa me ne frega di trovare Le cose per svegliare il drago Così Dobbiamo salire da qualche altra parte No Stai iniziando a svegliarlo però L'hai visto Gli hai messo proprio nell'orecchio Poverino Beh un po' l'ho fatta agitare Vedi che apri leggermente l'occhio Sì Però non basta Non basta minimamente Non basta Ok allora Se una roba del genere Non basta svegliare un drago Quando glielo spari Nell'orecchio Cosa tutto dobbiamo utilizzare Perché qua ho visto Tante cose Che ci sono un altro po' di oggetti Però mi sono anche reso conto Che qua c'è la seconda scatola E quindi tu stai pensando A dove arrampicarti Vero? Sì Eccola Era dall'altra parte Non ce lo siamo accorti Appena siamo sponati E perché io ho visto Quella roba lontana Pensavo fosse lì Non ce la fai a fare questo Eh Basta fare così Ti arrampichi Perfetto Eh ragazzi Non ne voglio lasciare Ma scusami Guarda però di nuovo Altre scatole Perché? Ma non capisco Cosa ce ne facciamo Di tutte queste scatole? Forse magari Allora Dopo che facciamo un sacco di rumore Gli dobbiamo pure tirare in testa Per dargli fastidio Ma che le ti vengono in mente ogni tanto? Vabbè Tanto Allora Prima hai detto che era carino Quel drago ora gli vuoi tirare le scatole addosso Allora lo dobbiamo svegliare Quindi non è che puoi fare solo rumore Magari devi tirare anche le scatole Io mi sveglio col rumore Però vabbè Vabbè aspetta Se ti tiro una scatola in testa Io ti assicuro che ti svegli Io invece sai che pensavo? Che magari Sfruttando prima di tutto Dobbiamo andare a riprendere la svegliata Perché abbiamo resettato Però Pensavo che salendo un pochettino più alto Di altezza Magari la trombetta è più nell'orecchio E lo svegliamo Però questa è la mia ricetta per svegliare un drago Ok proviamo Vai Uno Due E tre Ok non basta Non basta Non basta E' subito mossa appena l'ho avvicinata Ma la musica in questo momento? Sì 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 Vado Ok vai tutto Uno Due Tre Oh mamma mia Ti svegliato l'arrabbiatissimo Carino questa cosa Che devi usare anche la radio Per svegliare la musica E' già la seconda volta Sì Dopo la mappa di Yellow Neighbor Slash Simpsom Anche questa volta Centrale nucleare Mi sembra Ok Quindi non possiamo entrare a scatenare Una reazione nucleare Allora ti spiego Ho già capito Vedi quel puntino rosso E' una sorta di telecamera robot Sì Ci controlla Quando prova a passare Non va Quindi noi dobbiamo trovare La statuetta Noi dobbiamo No 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 Amico Amico Io ti spiego al volo una cosa Se tu fai queste cose I consolini vengono Con delle sedie Ti spaccano In due E i tuoi circuiti Iniziano a schizzare ovunque Perché noi dobbiamo collezionare le statuette Quindi facci passare Ok Ok sto cercando delle vie alternative Per fregare quella sorta di robot Ti puoi buttare da qui Provo Sì Sì Anche perché guarda Questo è il generatore Quindi magari se lo spegniamo Possiamo fareci Fatti nostri Hai ragione Hai ragione No però aspetta Vedi è tutto bollente Sì però Qua c'è un estintore No 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 pensavo fosse Ok niente Allora non è che magari lo dobbiamo spruzzare su di lui Qui lui cosa fa Eh ci leva il ponte Presto spruzza la telecamera Ok Vediamo Non dovrebbe notarci Infatti funziona Bellissimo Che figata E quindi adesso iniziamo Vabbè capito Iniziamo Iniziamo ad hackerare tutte le zone Esatto Come questa Ciao bello Vedete Il robo non ci possono fregare No 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 però aspetta Faglielo che magari succedono cose strane Ok Ok Perfetto qua Non mi sembra che ci sia Altro No Ok allora saliamo qua le scale Aspetta però Diverse vie Fere Eh ma 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 perché siamo finiti in questo luogo Da dov'è Qui però non capisco Neanch'io Ah Ah quindi devo salire tutto su Sì Oh mamma mia Che figo questo livello Penso che ci arrivi Sì Yes Ok quindi noi adesso possiamo andare qua E ce ne sono altre E c'è anche un altro estintore Quindi possono anche terminare Queste si muovono Queste si muovono Noi dobbiamo ovviamente salire lì sopra Però c'è una scala Quindi perché Opla Opla Ok devo stare attentissimo a questo salto Perché è abbastanza di precisione Tacchete Tacchete Ok perfetto Perfetto Quindi teoricamente lui adesso non toglie questa scala E noi possiamo salire di sopra Oh yes E qua cosa dovremmo trovare noi? Vedi qualcosa Fere? No non mi sembra che ci sia qualcosa Ok allora prova ad avanzare Ok Buongiorno C'è un robot che ci vede qua se saliamo nelle scale? No Quindi possiamo andare lisci Andiamo dritti Continuiamo ad andare dritti Secondo me ci siamo quasi eh Anche secondo me Anche perché ci siamo già da un po' a girare tutto intorno Che zona è questa? È piena di stintori Allora questa è la sala comandi però Sicuro Eh sì guarda tutte le centrali che ci sono Virus Ok Bello Allora dove lo dobbiamo inserire però? Ci fa scendere Ok E ci fa tornare qui Ok ok Allora lascio il virus qua perché non glielo voglio far vedere Fere al robotone Che magari fa qualche piano per fregarci E se non sto prendere a prenderti la statuetta È l'unica cosa che stavo pensando Ma non te lo volevo dire Fere perché poi Eh lo sapevo lo sapevo Non ti preoccupare Vado 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 E mi sa che se ricordo bene c'è una stanza anche lì Vedi lì sotto Dove magari troviamo qualcosa di utile Magari proprio il posto dove mettere il virus Esatto Statuetta presa Stiamo continuando a prenderle tutte Quindi siamo troppo troppo bravi Quella è quella che abbiamo fatto scendere Sì Vediamo qua cosa c'è Scusa Ho una cosa per te Tieni Eh sì eh sì Qua mettiamo il virus Esattamente Perfetto Eccoci qui Inseriamo Ok Uh Ok Aspetta è qua che devo fare Ah devo togliere tutta la memoria interna Oh vabbè lo stiamo distruggendo dall'interno E adesso Stravello Andiamo a vedere se sta succedendo qualcosa Ok Si è spento Quindi teoricamente Che poverino Questo robot sta difendendo Eh ma che ragione Le persone da una bomba nucleare Ma a noi non interessa Guarda È andato anche quest'altro sogno È completato Sì povero robot Aspetta Aspetta Ah ok Ok Ci volevano Ah Tenere sulle spine È giusto così È giusto così Perché hai premuto i pulsanti ed è partito un countdown Non lo so Ma che posto è Allora si stanno avvicinando i fili Vediamo Attivazione Ok Non è che ci dobbiamo andare in mezzo Tipo correre dopo che tu li attivi e finire lì in mezzo Ok Oh mamma mia stiamo attivando un buco nero No è un dispositivo di particelle tipo qualcosa del genere Eh l'ho capito però Mi ricordo anche che cos'è ma non mi ricordo il nome In ogni caso allora sicuramente noi non facciamo in tempo ad arrivare lì prima che si attivi Ok Quindi dobbiamo trovare qualcosa per arrivarci Da qui possiamo scendere di sotto ed esplorare tutta la zona Che cos'è questa cosa Fere? Non ho più palli d'idea Che cos'è? Non lo so Ma che serve adesso? Non lo... Fere? Fere? Ti è chiuso tutto? Sì Cominciamo Ah aspetta Forse ho capito Come? No Però Oh vabbè possiamo spaccare tutto a posto Alla vecchia maniera Tatuetta 3, 2, 1 Presa Oh meno male Ho avuto paura che non ce la facesti Anche io Anche io Allora Fere Io sinceramente non so che dobbiamo fare Proprio non capisco Però mi chiesto Proviamo a correre Vediamo se ce la facciamo Io ne dubito Però un tentativo te lo faccio Sinceramente Ok Ok Non mi costa nulla Ma secondo me quel chip che abbiamo trovato da qualche parte va assolutamente messo Vediamo Ma non è che magari qualche computer di questi ha un posto dove inserirlo? Non lo so Perché non è che ci siamo messi a guardare troppo Non è che lo dobbiamo portare con noi e magari serve a qualcosa nel momento in cui siamo lì in mezzo? 10 Non lo so Sto provando a dire cose ma non lo so Vai 1, 2, 3 Prendiamo il chip e corriamo E corriamo Vediamo Vediamo che succede Guarda come stiamo correndo 5, 4, 3 No 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 E poi non avevi neanche posizionato la sca Ah no Sì Qua lo puoi fare Vedi Ops Era abbastanza ovvio in effetti che Ta Allora Faccio il martello Io lo voglio dire con soline Abbiamo girato in lungo e in largo per due ore Non è vero Poi ho pensato Ma non è che possiamo distruggere il vetro col martello dato che già uno l'abbiamo distrutto Vabbè Vabbè Lasciamo perdere Steph Vai Adesso sì che ce la facciamo Così sì che ce la facciamo Allora nel dubbio il chip io l'ho lasciato qua Prendilo E ce lo portiamo con noi Secondo me serve Vai Però come faccio a fare questo salto Non lo so Ui Ok Vediamo se succede qualcosa Aspettiamo qua Ok Uh huh Tutto normale Sì Parte Ok Oh mamma Sì 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 era così Steph Era così Sicura Fede no perché A me è sembrato che non è successo niente Se in effetti metti un oggetto è strano È normale che la reazione che si provoca È diversa Esatto Strana ed esplosiva Comunque altro livello è andato Esattamente Per il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Ciao